Il senso comune è qualcosa di mostruoso, il senso di responsabilità altrettanto, abbiamo bisogno di fantasia, abbiamo sopravvalutato il potenziale della mediocrità intorno a noi, abbiamo sopravvalutato non ci siamo accorti di quanto la caverna sia superiore a ogni nostra aspettativa, lo stiamo vedendo adesso in tempo di Covid pensare che qualcuno neghi l'esistenza della pandemia e trovi i vaccini addirittura uno strumento demoniaco dalla misura della caverna appunto, di quanti trovi, dice volete la dittatura sanitaria? No, assolutamente. Quale è la dittatura sanitaria? Personalmente voglio la tirannide sanitaria. Vi ricordo che ho deciso di candidarmi alla presidenza della Repubblica, al Quirinale. Il senso comune è disgustoso. Il senso di responsabilità. Adesso le sigarette le fanno, invertono perché per il Covid e questo c'è dove fare la riflettere. Il senso di responsabilità è altrettanto, meno questo gesto, insostenibile. Abbiamo bisogno di fantasia. Accendiamo Toschi. Ringrazio sempre Marco Lodola per questo dono. Mi raccomando, sostenete. La volta scorsa un voto al Quirinale. Non devo essere letto. Basta che ci sia. Una fiammella di ironia in questa avventura. Di fantasia. Una parola semplice. Ma penso dia molto... Ovviamente le ragioni dell'antifascismo intatte. Sostieni Fulvio Vato al Quirinale. Vai Troschi. Che bello. Te ne ho due ruti. S bulletin. Sì. Surtro.